Dovrebbero essere superiori a 800 milioni di euro i fondi da destinare alla Basilicata previsti dall'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione. Accordo che sarà siglato a Potenza oggi, lunedì 25 marzo 2024, dalla Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, che sottoscriverà l'accordo con il Presidente Vito Bardi alle ore 16 nell'Aula Quadrifoglio del Polo Universitario di Rione Francioso a Potenza. Con il presente accordo, Governo e Regione si impegnano a sostenere un programma unitario di interventi sul territorio lucano, finalizzato allo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale della Regione. Una nota di servizio. Per l'occasione, il tratto di strada tra Via Viviani e la Piazza del Francioso sarà interdetto al traffico dalle ore 14 per consentire lo svolgimento dell'appuntamento in sicurezza. Disposta anche la chiusura della scuola media Luigi Lavista.